La politica in tempo di crisi è costretta sempre più spesso a fare i conti e tra bilanci risicati, manovre del governo che tagliano le risorse agli enti locali, a subirne gli effetti sono i capitoli di bilancio che riguardano spettacolo e cultura. Franco Maiolino, che guiderà in continuità l'assessorato al turismo e allo spettacolo con l'aggiunta del settore cultura, finora occupato da Battista Maulicino, è consapevole che il suo lavoro, in vista dell'estate 2012, sarà fortemente condizionato dal budget a disposizione. Nelle prossime settimane, ci ha detto telefonicamente, definiremo il quadro delle possibilità economiche, ma sappiamo bene che le condizioni sono molto diverse rispetto agli altri anni. L'idea di fondo è mantenere vive, anche se in tono minore, le kermesse che a Diamante si sono confermate negli anni, come gli eventi al Teatro dei Ruderi, l'Operazione Murales e il Festival del Cinema, aspettando e sperando in tempi migliori. Ma oltre agli equilibri economici fondamentali per il futuro dell'amministrazione Magorno, saranno gli equilibri politici che hanno subito già un primo scossone. La vicenda dell'esclusione dall'esecutivo dell'ex assessore al bilancio, Michele Trifilio, ha detto Maiolino, è la logica conseguenza della nuova legge elettorale. Nell'ambito di questa, il sindaco ha legittimamente esercitato il suo potere di scelta, cercando di creare l'assetto più equilibrato che garantisca la massima stabilità. Liquidata così, la vicenda a Trifilio ci si appresta all'estate. Con le sue aspettative e le critiche pronte ad esplodere, sarà il vero primo banco di prova per il Magorno Bis, che si prevede molto movimentato.